www.feyyaz.com Ah dai! Fai gli altri piedi Noi mi raccomando, ma ilvero? Ti metto già un po'... Dai dai... Cosa hai fatto? Eh, ha fatto un incidio E poi si riprenderà Se venivi con me io insieme Guarda che bella ragazza che ho conosciuto Amore a prima vista Grazie Grazie Anch'io ho trovato i studi di sera Ma te che cazzo serve?